Il padre e lo straniero Il padre e lo straniero è prodotto da Grazia Volpi. Qui la vediamo insieme al bambino protagonista del film. Dopo arrivano anche i genitori. Più avanti è insieme all'avvocatessa Cao, una delle persone più importanti dell'ambiente del cinema italiano. Infine, è al tappeto rosso, poco prima della proiezione, che ci dirà qualcosa. Mi onda, mi son fatta. Mi onda, mi son fatta. Senti, ma io adesso la facciamo bene questa cosa per i ragazzi disabili. Qualcosa qui sul tappeto rosso? Per il vlog. Ti dico qualcosa per il vlog? Sì. Una serata così, un film così, un successo come sarà sicuramente. Questi film valgono la pena dei tanti sacrifici che i produttori fanno. Sono le vere, i veri eroi del cinema. I capitani coraggiosi. Sì. 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 Grazie a tutti.